Una giornata storica è stata definita anche se appena stata posata la prima pietra solamente, ma Verona crede che il progetto Romeo, che amplierà il terminal passeggeri dell'aeroporto Cattullo, donandogli anche una veste più moderna, tecnologica e sostenibile, rilancerà di molto il turismo e le attività economiche in tutto il territorio, tanto più che arriverà prima delle Olimpiadi Invernali 2026 e forse già per la fine del 2024. Per il Cattullo, che oggi fa parte con gli scali di Treviso, Venezia e Brescia, del polo aeroportuale del nord-est gestito dal gruppo SAVE, socio al 41,89% dello scalo e forte di un recente aumento di capitale approvato dai soci con la liquidazione di Aerogex, si profila una stagione nuova anche grazie ai recenti 800 milioni di investimenti in ambito aeroportuale approvati dal governo, che faranno respirare tutto il settore. Dopo tanti anni di ristrutturazione partiti 11 anni fa, dove la situazione era molto critica dall'aeroporto, abbiamo visto negli ultimi tre anni da parte della società fare investimenti già sull'aeroscalo per oltre 30 milioni di euro per quanto riguarda Verona e oggi parte il vero progetto, il vero progetto di rilancio dell'aeroporto con il rifacimento dell'aerostazione, un investimento di oltre 68 milioni di euro che consegneremo alla comunità entro la fine del 2024, questo è l'obiettivo che ci siamo dati, quindi un aeroporto nuovo, moderno e che vedrà sicuramente grandi soddisfazioni. Siete tra Verona e Brescia sostanzialmente, quindi dovete tirare fuori le unghie, qual sarà secondo lei il brand di questo aeroporto? Il brand di questo aeroporto sarà un brand legato al mondo aeronautico, ovviamente dell'aviazione civile, mentre per quanto riguarda Brescia e Montichiari sarà soprattutto concentrato sullo sviluppo del cargo, tanto è che siamo diventati il terzo aeroporto cargo d'Italia, quindi stiamo facendo veramente dei passi da gigante. Cerimonia in grande stile, come non si vedeva da tempo, con un hangar del Catullo trasformato per l'occasione in centro congressi, ma anche in una sala d'orchestra con un omaggio musicale al maestro Morricone sulle note di Mission, che è un po' uno slogan per una missione che in questo caso ha la sola opzione di essere possibile e che al suo completamento porterà un aeroporto moderno e sostenibile con una capacità di accoglienza fino a oltre 5 milioni di passeggeri l'anno, un futuro auspicabile salutato anche nel finale dal passaggio benaugurale delle frecce tricolose. Grazie. Grazie.